Paragonare due terremoti come quello dell'Emilia Romagna del 2012 e quello dell'Aquila del 2009 non è certo cosa facile, ma paragonare la governance di ricostruzione è utile a comprendere le diverse scelte operate dai territori e la loro funzionalità è così che nell'Aulamagna dell'Università di Scienze Umane dell'Aquila si è svolto un convegno sul sisma Emilia-Abruzzo in Emilia la ricostruzione è stata da subito affidata agli enti locali mentre in Abruzzo l'impatto del governo è stato decisivo prima la struttura commissariale e poi ancora oggi gli uffici per la ricostruzione di certo questo rappresenta uno degli atteggiamenti distintivi delle due governance l'Emilia, a differenza dell'Abruzzo, non ha realizzato i progetti case con le note vicende giudiziarie sul presunto spreco di denaro e sull'evidente fallimento costruttivo in alcuni casi come quello dei balconi caduti c'è di certo chi dirà facilmente hanno fatto bene ma un dato ha comune due territori difficilmente paragonabili ripetiamo per estensione tipologia del danno e di incidenza sul tessuto sociale del terremoto il dato comune è un rischio ricostruire paesi e città bellissime con strutture, palazzi e servizi moderni e sicuri ma senza cittadini che li abitino fa scuola in questo senso il terremoto e la ricostruzione dell'Umbria Non c'era Umbra, è uno dei centri recuperato perfettamente e però gli abitanti nei dieci anni di processo, di percorso per la ricostruzione se ne sono andati altrove però diventano luoghi di turismo diventano luoghi dove si innesca una diversa economia dove magari fra 7, 8, 10 anni ci può essere un ritorno alla natura un ritorno al vivere diverso da parte di coppie giovani questo noi non lo possiamo dire oggi non si può neanche predeterminare, è molto difficile Il Tribunale regionale d'Abruzzo ha dichiarato inammissibile il ricorso fatto per l'annullamento del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di quattro posti di operatore socio-sanitario indetto e realizzato dall'ASL Avezzano sul Mona L'Aquila Il concorso, le cui prove sono ancora in corso di svolgimento, rimane così valido L'istanza di sospensiva era stata presentata da uno dei concorrenti a cui si è riunita la solidarietà di altri 100 che avevano rilevato delle irregolarità durante la prova scritta dello scorso 28 luglio I candidati avevano denunciato che durante la prova svoltasi nel palaghiaccio di Roccaraso i concorrenti avevano avuto la possibilità di entrare ed uscire dall'aula I cellulari squillavano in continuazione, dicevano si aveva la possibilità di copiare tre concorrenti e addirittura c'è stata data la possibilità dal presidente della commissione si legge in una nota di uno dei concorrenti di poter cambiare la risposta durante l'esecuzione del quiz apponendo una scritta no sulla risposta ritenuta sbagliata per poter poi mettere un'altra crocetta sulla risposta ritenuta giusta In seguito a queste testimonianze gli avvocati Mario Angelo Candido e Francesco di Genova avevano fatto richiesta di sospendere il concorso alla stessa azienda sanitaria che però non aveva risposto all'istanza e aveva proceduto con la seconda prova orale Un concorso con numerosi vizi di carattere formale avevano spiegato gli avvocati L'anomalia più rilevante era che il bando prevedesse una prova pratica individuale consistente nell'esecuzione tecnica di manovre anche simulate che dimostrassero la capacità e l'abilità nelle prestazioni sanitarie Invece, secondo gli avvocati era stata fatta eseguire una prova scritta collettiva consistente in un questionario con risposta multipla che per legge è equiparato ad una prova scritta Ma il Tribunale regionale ha rigettato il ricorso e ha dato ragione all'azienda sanitaria ASL numero 1 Abruzzo Educazione alla legalità economica a scuola con la Guardia di Finanza e questo è il titolo del progetto che si è svolto nell'Istituto Comprensivo Serafini Stefano di Sulmona con le fiamme gialle e con gli studenti per parlare di cultura della legalità economica Questa iniziativa tra ha origine da un protocollo d'intesa tra il Comando Generale della Guardia di Finanza e il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca finalizzato a promuovere un programma di attività a favore degli studenti della scuola primaria e secondaria Lo scopo è quello di far maturare la consapevolezza del valore della legalità economica con particolare il riferimento alla prevenzione dell'evasione fiscale e dello sperpero di risorse pubbliche delle falsificazioni, della contraffazione nonché l'uso e dello spaccio di sostanze stupefacenti e di far conoscere inoltre la particolare e delicata attività che svolgono i finanziari addetti al soccorso in montagna E' stato così sviluppato un progetto educazione alla legalità economica che anche per l'anno scolastico 2015-2016 prevede l'organizzazione a livello nazionale di incontri presso le scuole orientati a creare e diffondere il concetto di sicurezza economica e finanziaria affermare il messaggio della convivenza della legalità economico-finanziario e stimolare nei giovani una maggiore consapevolezza del ruolo delicato rivestito dal corpo come organo di polizia vicino a tutti i cittadini di cui tutela il bene fondamentale delle libertà economiche Gli studenti sono stati coinvolti in questa iniziativa anche grazie all'aiuto di un kit multimediale e hanno partecipato con interventi e domande sui casi pratici con particolare riferimento all'uso delle sostanze stupefacenti un problema molto vicino agli studenti della scuola primaria e secondaria Gli studenti si sono infine appassionati anche al soccorso in montagna Grazie a tutti